Buongiorno, sono Massimo Canetta, il docente di Tarot e come tutti i mesi oggi vedremo la piramide del mese da casa e potete utilizzare la stessa metodologia. Per il mese di ottobre possiamo analizzare nella piramide la carta del mese, quindi l'estrazione dell'energia che ruota intorno al mese di ottobre a livello tarologico. Dopodiché abbiamo la carta che rappresenta come mi sono posto nell'approcciarmi al mese di ottobre, che potrebbe essere ad esempio un modo poco consono alle particolarità del mese che sta arrivando, tanto è vero che come invece dovrei rapportarmi potrebbe darci delle indicazioni in più che non per forza devono essere sostitutive ma potrebbero essere affiancanti a come mi sono posto finora nell'approccio al mese di ottobre. Attenzione che potremmo avere degli ostacoli, quindi cosa ci potrebbe ostacolare nel percorso, quale invece potrebbe essere l'alleato, cosa mi potrebbe aiutare per arrivare a raggiungere una stabilità per questo mese di ottobre. Infine la chiave di lettura che ci darà un po' il quadro generale di come affrontare il mese di ottobre. Partiamo, potete farlo appunto anche voi con la stessa metodologia ed ora partiamo con quelle che sono uscite nell'estrazione che ho fatto io poco fa. La carta del mese è il matto, come sappiamo il matto è un'energia molto potente non ancora esplosa, cioè quell'energia molto forte che ci dà la spinta per iniziare nuovi percorsi, ci dà la spinta per affrontare nuove tematiche o nuove problematiche con un po' di leggerezza, quindi non preoccupandoci magari delle conseguenze anche magari in maniera poco elegante o comunque in maniera non del tutto ortodossa, comunque con quel pizzico di follia possiamo avventurarci a percorrere nuove strade. Ma finora io come mi sono posto? Esattamente al contrario, sempre un'energia potenziale, quindi una grande energia in potenza che è l'alcano 1, il bagatto, ma quali sono le particolarità del bagatto? Saper fare le cose, saper mettere in pratica determinate energie, avere però delle limitazioni legate alla poca esperienza e quindi scarsa sicurezza in noi stessi che all'arcano del mese il matto poco interessa e quindi magari un approccio troppo pratico rispetto alla parte meno pratica e quindi più aleatoria, un po' così più creativa e più spensierata dell'arcano del mese di ottobre. Come invece dovrei pormi? Ecco probabilmente questa grande energia di viaggio, di intraprendenza, di follia probabilmente ha bisogno anche di una parte introspettiva che possa farci capire perché ad esempio stiamo percorrendo questo nuovo sentiero. Quindi non il come del bagatto ma anche il perché dell'eremita, quindi la parte illuminante di questa energia folle del matto va vista sotto un aspetto più profondo. Troppa luce potrebbe essere il nostro ostacolo, cioè il sole, cioè l'amicizia, cioè la collaborazione, cioè la fratellanza. Forse in questo momento non abbiamo bisogno di questo. È proprio che essendo l'ostacolo tutta questa comunione di intenti magari di essere supportati da amici, da persone, da familiari, forse in questo momento non ci permette di intraprendere questo nuovo cammino. Quindi attenzione che potrebbe tenerci invece più legati a una parte materiale e non a quella voglia esplosiva che abbiamo di cambiare. Il nostro alleato invece potrebbe essere il ragionamento più selettivo, quindi avere le idee chiare, quindi partire un po' da folle ma comunque con delle idee solide, con un obiettivo preciso, quindi introspettivo, personale, molto profondo personale, ma comunque ben delineato. Sembra un po' uno simoro, un percorso stabile, delineato, avendo il matto come energia primaria. Però è anche vero che spesso facciamo dei colpi di testa per raggiungere un obiettivo che abbiamo ben chiaro in testa. Quindi non è detto che la follia, la voglia di libertà, la voglia di fuga del matto sia dettata da idee senza senso. Probabilmente hanno un fondamento molto radicato, molto valido e con l'obiettivo e la volontà di introspezione. La chiave di lettura di questo ecco appunto l'approfondimento dell'Arcano XII d'appeso, cioè vedere le cose da un'altra prospettiva, che potrebbe essere l'obiettivo anche della fuga, vedere con altri occhi quello di cui abbiamo bisogno, approfondire, quindi meditare molto su quello che stiamo facendo. Ecco anche l'eremita, che potrebbe avere bisogno di una forte meditazione, di una forte visione diversa da punti di vista diversi e dopo la fuga del matto probabilmente tutto questo deve terminare con una fermata. Quindi bello anche capire che non sarà una fuga alla Forrest Gump ma una fuga mirata con un obiettivo ben preciso, quindi quel pizzico di follia ci porterà comunque a una capacità introspettiva e di visione completamente nuova. La lettura della piramide del mese spero vi sia piaciuta, fatela anche voi, vedrete che sarà una cosa veramente particolare. Buona vita a tutti e al prossimo mese.